Salve a tutti, con questo piccolo video intendo spiegare le funzioni essenziali di LibreOffice. LibreOffice è uno strumento che ho scelto per la compensazione del disturbo della lettoscrittura per alcune particolari sue prerogative. Nel kit PCDS-A2015 si trova la cartella 8. Come tutte le cartelle, anche LibreOffice si troverà sia il programma, in questo caso è il più nuovo, uscito in marzo 2015, e il video che sto facendo. LibreOffice una volta installato farà trovare un lanciatore sul desktop e questo lanciatore permetterà di lanciare documento di testo, di presentazione, di calcolo e di disegno, ma noi ci soffermiamo sul documento di testo. Allora, ho precaricato un documento di testo per mostrare le funzioni che ne fanno di LibreOffice, di LibreOffice, di LibreOffice, uno strumento per la compensazione della lettoscrittura, adeguandolo alle nostre esigenze. Allora, intanto è interessante e importante anche scegliere il font ad alta leggibilità. In questo caso il fonte che ho scelto è il Verdana, conviene appunto scegliere il Verdana. E poi, istruire LibreOffice per avere un buon correttore ortografico e un preditore di parola. Per fare questo, clicco su Strumenti e alla voce Opzioni di correzione automatica posso scegliere appunto varie funzioni, le eccezioni, le opzioni di correzione finché si digita o di evidenziazione della correzione, la lingua. E la cosa che mi interessa di più, oltre a queste funzioni di correzione automatica, e quindi il programma corregge l'errore di digitazione o di scrittura, il completamento di parola. Perché posso arrivare a una lunghezza minima di 5 caratteri, vale a dire che dopo 5 caratteri ci sarà una ipotesi di scrittura messa in evidenza di fianco, e arrivare a scegliere fino a 10.000 lemmi, vale a dire che il computer avrà 10.000 voci di scelta per quella parola che è iniziata con questi 5 caratteri. La cosa che è interessante è che l'UberOffice raccoglie le tue parole, cioè fino a che noi scriviamo, lui memorizza il nostro stile di scrittura ed esporrà la parola che di solito noi usiamo, che inizia con quelle lettere che sono state digitate. Non clicchiamo prima di chiudere il documento, rimuovi la lista, perché sennò ritorna ad usare solo la sua lista, invece così, senza questa spunta, imparerà da noi. Clicchiamo ok e LibreOffice adesso correggerà il testo e ci predirà le parole. Un altro strumento abbastanza importante di LibreOffice è fare in modo che nelle opzioni di scrittura lui scriva sempre con il Vertana, cioè con il carattere di base ad alta leggibilità, se no ad esempio qua userebbe di default il Time Roma, l'Ariel, che non hanno la leggibilità del Vertana, quindi io clicco Vertana e lui ogni volta che inizierà a scrivere userà il carattere che io ho scelto. Ovviamente per evitare l'affaticamento nella scrittura sceglierò un font abbastanza grande, io ho scelto il 12, in questa configurazione è l'intestazione 14, non solo per il documento attivo ma per tutte le scritture che farò. Ok, questo vuol dire che quando io comincerò a scrivere lui scriverà con il Ventana 12. Adesso sempre negli strumenti per aumentarne la portabilità di questo documento e evitare che il documento sia salvato in ODT, che è un formato di libero office libero, ma se il ragazzino deve dialogare con il suo documento o con altri, e oggi sappiamo che il documento più in uso è il documento di Microsoft Word, conviene che nelle funzioni generali il salvataggio del documento di testo non sia l'ODF ma sia Word. Ecco, vuol dire che ogni volta che io salverò il testo sarà salvato in formato DOC. Sceglierò il salvataggio automatico ogni 4 minuti, così ogni 4 minuti sono sicuro che il mio documento non si perderà ma verrà registrato e salvato. Ok, ecco quindi il nostro libero office allestito con preditore di parola, correttore ortografico, salvataggio automatico e un font ad alta leggibilità. Le altre funzioni sono quelle classiche di ogni elaboratore testi, quindi non mi dilungo. Casomai mostro che cosa vuol dire preditore di parola, obiettivi, ecco vedete è già uscito perché c'era già nella parola, quindi lui ancora alla quinta lettera mi fa la proposta, clicco invio, ecco obiettivi. Libero office è fantastico per la possibilità di introdurre immagini direttamente copiate nella cache del computer con copia e il programma Fast Home Capture che è sempre nel kit e quindi permette di costruire verifiche, testi commentati con molte immagini che sono in salvavita dei nostri ragazzi con disturbo specifico dell'apprendimento. Quindi per le guide del kit PCDSA 2015 portabile Francesco Fusillo vi ringrazio per l'attenzione di questa piccola guida su LibreOffice Writer.